aaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaah ehi, siamo nel parco! siamo nel parco giochiamo qui Jason ok ehi Jason giochiamo qui andiamo al parco giochi grande idea forza andiamo sarò il primo sarò il primo no sarò io il primo lasciami andare prima voglio essere primo ciao oh aspettami forza forza Jason Alex andiamo in un altro parco sì certo ok aspetta un attimo che cos'è? guarda oh no una tempesta sta arrivando una tempesta Jason dove sono? sono caduto nell'acqua dove è Jason? devo trovarlo dove è mio fratello? devo trovarlo Jason Jason dove sei? Alex dove sei? oh Jason Jason Alex dove sei? Jason dove sei? devo chiamare un'ambulanza o forse la polizia o magari è molto meglio chiamare i pompieri non lo so non riesco a trovare Jason ma ho un'idea perché non proviamo ad usare questo? ora riesco a trovare un'ambulanza ora riesco a vedere la posizione andiamo ragazzi dove sei Jason? dove sei Jason? oh no ho perso Jason troverò Alex ragazzi oh sento qualcuno che piange andiamo di là oh Jason fratellone mio chi è? ehi Jason che bello rivederti dove eri finito? io ero lì proprio lì sì e io ero proprio qui piangendo che bello averti ritrovato andiamo a casa